ciao a tutti appassionati di anime manga sono Alex come sempre video su youtube, su instagram, su twitch e anche il migo tag per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione oggi devo fare la prima impressione di pet shop of horrors editor star comics prezzo 9 euro autrice matsuri akino e una raccolta di cioè più che altro una raccolta sono tutti capitoli autoconclusivi incentrati su questo fantomatico conte di o meglio nipote del conte di che probabilmente sarà un conte dracula questo nipote a questo o meglio suo zio a questo negozio per appunto di animali a china town e animali esotici animali antropomorfi sembrano delle persone normali con qualche caratteristica animalesca o ali oppure hanno un linguaggio particolare poteri particolari eccetera eccetera e quindi vari clienti ovviamente restano sbalorditi un po da queste stranezze e tutti hanno un problema particolare ma soprattutto il nostro protagonista da questa animali dandogli delle regole cioè se se l'acquirente rispetterà queste regole andrà tutto bene però qualora nel caso non rispettassi di queste regole il pet shop negozio declina ogni responsabilità e manco a dirlo ovviamente le regole tutte le volte verranno immanicabilmente disattese e spesso si concluderà con la morte del malcapitato acquirente spesso quindi comunque creature abbastanza esotiche particolari molto legata al fulcone anche anche europeo abbiamo le chimere degli uccelli molto molto rari unici delle isole del sud comunque trae un po' ispirazioni da varie culture da varie mitologie poi però c'è anche un detective un detective particolare che indaga su queste presunte morti particolari queste stranezze e vede comunque tutti queste morti queste persone morte sono legate a questo negozio cioè perlomeno hanno frequentato questo negozio e un negozio che lui non ha neanche mai sentito e ovviamente si avvicinerà a questo negozio e comincerà a conoscere il nostro personaggio e all'inizio non riesce a capire che negozio sia ecco e piano piano la storia andrà sempre più avanti è carino interessante non è male per di più essendo comunque tutti episodi autoconclusivi si può leggerlo anche saltando i vari capitoli oppure leggendolo con molta più calma cioè legge un capitolo adesso magari l'altro leggi fra due giorni ecco non è necessario stare concentrati e leggerlo tutto dall'inizio alla fine per capire un po e seguire non c'è forse una vera e propria trama dall'inizio alla fine però comunque è apprezzabile è carino stile di disegno retro ovviamente a inizio stile a fine anni 80 inizio anni 90 come stile e comunque l'ho trovato l'ho trovato carino non so se l'avete preso scrivetemi qui sotto nei commenti nel caso se l'avete recuperato avete intenzione di recuperarlo prossimamente io gli darei assolutamente una possibilità come primo volume da prendere ok 9 euro però non è che ci esca chissà quale roba interessante soprattutto se mi piacciono il mistero le mitologie creature fantastiche ecco sì piace questo genere un po anche horror forse secondo me può anche interessare farvi piacere a me comunque ho trovato interessante degli sviluppi interessanti delle varie trame è comunque capitoli tutti abbastanza veloci non sono proprio lunghissimi non sono proprio corti però diciamo che sono di lunghezza giusta anche la trama che la storia si vuole molto molto bene e a me è piaciuto io vi ringrazio se vi è piaciuto mi raccomando iscrivete al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video